Ciao a tutti ragazzi, io sono AngeloR98 e sto facendo questo video per annunciarvi che sono entrato a far parte della Otus Network, questa fantastica community sulla quale a breve inizierò una nuova serie e farò anche gameplay di giochi vari, come per esempio COD, Battlefield, che più ne ha più ne metta. Quindi restate sintonizzati per la prossima serie e ciao ciao!